Ciao e benvenuto su Psynel, il podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale. Io sono Gennaro Romagnoli e ti do il benvenuto alla 133esima puntata di questo podcast, puntata in versione estiva. Oggi parliamo di come l'uso del tuo cellulare può influenzare il senso di potenza e di assertività. Lo so, ti sembrerà un po' assurdo come argomento e di certo lo scelto come argomento leggero per l'estate, ma a quanto pare è qualcosa da non prendere sotto gamba. Gli anglosassoni lo chiamano anche high posture o high hunking, non so come si pronunci, o gobba da smartphone, non so se l'hai mai sentito, e a quanto pare può influenzare negativamente le nostre performance. Bene, iniziamo! Oh, allora, come sta andando quest'estate? Molto probabilmente se tu mi stai ascoltando in un qualsiasi altro periodo dell'anno, devi sapere che questa puntata del podcast sta uscendo in agosto, quindi in piena estate del 2016. Per prima cosa voglio ringraziare tutte le persone che sono venute su iTunes a mettere la loro piccola review a 5 stelle, ormai abbiamo superato più di 200 review, oltre 120 commenti, devo ringraziare tutti. È un piccolo gesto che puoi fare, di cui trovi tutte le istruzioni sul mio blog nella sezione podcast in alto, e che può dare un grande contributo alla visibilità di Psyne. Come sempre, ti ricordo che ci sono altri due modi molto interessanti per seguire Psyne, uno di questi è l'iscrizione alla mailing list che ti consente di avere e di ricevere tutte le settimane il QDE, cioè il quaderno degli esercizi, un piccolo manuale allegato dove si discute un po' più approfonditamente del tema della settimana. E in più, un'altra modalità per seguirmi è iscriverti alla mia fanpage di Facebook in modo da essere avvisato ogni volta che farò una live e durante queste vacanze estive conto di farne almeno una alla settimana, più o meno, vediamo un pochettino come va. E infine un ultimo modo molto interessante che sta diventando sempre più popolare è Snapchat. Puoi aggiungermi su Snapchat cercandomi con il nickname Psyne. Bene, quindi iniziamo. Oggi è davvero difficile entrare in una metropolitana, in una stazione, in un autobus o in una qualsiasi sala d'attesa e non vedere qualche persona che spulcia il proprio cellulare. Con la testa china su un piccolo schermo, sono molti i posturologi che affermano di vedere incorvature della colonna vertebrale che prima non vedevano in età così giovane. La posizione è quella classica che puoi immaginare tu stesso, testa inclinata verso il cellulare con il rischio di andare a sbattere. Poco tempo fa ho visto un video divertente su YouTube dove c'era appunto questo nuovo lavoro di un assistente che portava in giro le persone per evitare che andassero a sbattere proprio mentre guardavano il proprio smartphone. Ok Jenna, capisco l'effetto della postura, ma cosa c'entra con un blog di crescita personale? Eh, c'entra, c'entra. Ti ricordi gli studi di Amy Cuddy sulle power position? Sulle posizioni del potere? Quello che aveva provato sperimentalmente ciò che nella crescita personale diciamo da 50 anni. Cioè che la postura, la tua posizione del corpo o nella crescita personale la chiamiamo fisiologia, influenza il tuo stato mentale. Più una postura è chiusa, ricurva, ripiegata, rivolta ad occupare il minimo spazio possibile e più il nostro corpo retroagisce negativamente sul cervello facendoci sentire appunto piccoli ripiegati e quindi meno potenti, meno forti. Abbiamo già parlato di questo argomento più volte e ti ho anche già detto che questo non è un invito a prenderti tutti gli spazi fisici del mondo, a fare il gradasso, occupare due o tre posti quando vai sul treno, ma può essere utile come esercizio di consapevolezza ed è lo stesso argomento che abbiamo trattato nel podcast numero 131 sulla voce. Te lo ricordi? Bene, andiamo a pescare ancora una volta in mezzo alle affascinanti ricerche di questo calibro. Sì perché la Caddy insieme ad altri collaboratori hanno realmente voluto testare questa ipotesi. Se è vero che le posture ripiegate ci fanno sentire meno potenti, è possibile che la grandezza dello schermo del nostro cellulare, del nostro device, possa influenzare il nostro senso di potenza e di presenza? L'idea è molto semplice. Più è piccolo lo schermo e più sei costretto a ripiegarti su te stesso. Per testare questa ipotesi i ricercatori hanno usato tutti i device della Apple che esistano. Sì, penso proprio che la ricerca fosse sponsorizzata dal marchio con la mela. Ora non vorrei fargli troppa pubblicità, tanto non ne hanno bisogno. Immagina l'esperimento, c'era il classico telefono, un tablet, un portatile ed un desktop, cioè un computer fisso. E se ci pensi vanno in ordine di grandezza, dallo schermo partendo dal più piccolo e andando via via verso il più grande, il computer fisso. I soggetti dell'esperimento sono stati suddivisi per apparecchio. Ad ognuno è stato dato un tempo di circa 5 minuti dove dovevano rispondere ad un questionario digitale attraverso uno di questi device. Quando scadeva il tempo uno sperimentatore entrava nella stanza e diceva al soggetto che sarebbe tornato entro 5 minuti per dargli la cifra pattuita. Sì, negli altri paesi pagano i soggetti, noi in Italia invece sfruttiamo gli studenti. Piccola nota per i ricercatori. In realtà l'esperimento vero e proprio iniziava in quel momento, nel momento in cui lo sperimentatore diceva vado via tra 5 minuti, torno tra 5 minuti. I soggetti erano segretamente videoregistrati e gli sperimentatori volevano vedere quanto tempo avrebbero atteso i soggetti prima di spazientirsi e andare, diciamo così, a far valere i propri diritti. In pratica lo sperimentatore non ritornava più e volevano vedere quanto tempo ci avrebbero messo a far valere le proprie ragioni, la nostra, quella che chiamiamo da tempo, assertività. L'ipotesi di partenza era questa. Se è vero che la postura ci rende più o meno assertivi, chi aveva usato apparecchi dallo schermo più grande avrebbe agito con maggiore assertività, quindi si sarebbe alzato prima per richiedere la propria paga. Secondo te, com'è andata? Trascorsi 10 minuti da quando lo sperimentatore era uscito, quindi il doppio del tempo promesso, solo il 50% di chi usava uno smartphone si alzava a richiedere i propri diritti, contro il 94% di chi aveva utilizzato il desktop, cioè il computer fisso, praticamente il doppio. Ed i grafici riportati dallo studio evidenziano nettamente che più piccolo è l'apparecchio e meno assertivi sono stati i soggetti. Un dato che può apparire come banale, ma così non è. Nella nostra società rivolta alla massimizzazione dei tempi e degli spazi sembrava sempre più figo avere un apparecchio piccolo, ti ricordi no? Chi aveva il cellulare più piccolo era più figo. Penso solo agli orologi smart, fortunatamente mi viene da pensare che tutti i cellulari più belli stanno espandendo i loro schermi e questo dovrebbe espandere anche le posture di chi li utilizza e quindi l'assertività. La postura espansa non è solo correlata all'assertività, ma anche correlata con la capacità di restare più calmi in determinate situazioni, attraverso la nostra cara presenza, attraverso la nostra consapevolezza. Tendenzialmente, a meno che tu non sia particolarmente fortunato o che non abbia fatto anni di danza o qualsiasi altro sport dove la postura conta tantissimo, quasi tutti abbiamo bisogno di portare attenzione a questo aspetto. I dati lo dicono chiaramente per motivi che si legano ad aspetti sia posturologici, come ad esempio mal di schiena e quant'altro, e sia oggi sappiamo ad aspetti che riguardano la nostra mente. Ti confesso che io sono spesso ripiegato su me stesso, per cui questi studi serviranno molto anche a me. Quindi è solo qualche anno che possiamo tranquillamente affermare che quei problemi, quei problemi posturologici, possono anche influenzare l'aspetto psicologico, la sfera psicologica. Ok Genna, lo so, ne hai parlato molte volte. Devo stare aperto perché questo mi permette di sentirmi più forte. È così? Ho capito bene? Sì, esattamente, ma come mi avrai sentito dire più volte, questo non serve per dimostrare agli altri che sei più forte, cioè di stare in una posizione da pappone per dimostrare potere, ma serve a te per sentirti davvero più forte. Non so se riesci a cogliere questa sottile differenza. Non è dimostrare, ma è di sentirti. Non serve per impressionare gli altri, serve per impressionare te stesso, senza doverti davvero impressionare, perché non si tratta di una suggestione, non sei lì a dirti sono forte, sono figo, anche se un pizzico di suggestione non guasta mai, come dimostrano i centinaia di studi sull'effetto placebo. Bene, mentre segui questa puntata, molto probabilmente sarò in Spagna, se la segui nella settimana di pubblicazione del podcast. Per la precisione vado a Valencia. Da lì farò un sacco di piccoli video dal mio account di Snapchat, ti ricordo si chiama Psinel. Aggiungimi e guarda le mie storie che ormai sono quasi quotidiane. Nel frattempo cercherò anche di fare qualche diretta live tramite Facebook. A me stanno piacendo davvero tantissimo. Se ne hai seguita qualcuna sai che si respira un clima molto particolare. Per quanto mi riguarda, mi sembra quasi di essere vis-à-vis con un gruppo di persone interessata ad uno specifico argomento, un po' come se fossimo in aula per qualche istante o in una stanza, in un bar tutti insieme e tu mi lasciassi la parola e mi permettessi di rispondere alle tue domande. Ti sto dicendo tutto questo perché molto probabilmente, come capita tutti gli agosti, la prossima settimana non ci sarà il podcast di Psinel, perché fra tornare, andare e venire, non riuscirò a registrare in tempo la puntata per la prossima settimana. Per cui nel frattempo sai che hai altre 133 puntate da ascoltare. Non ti credo se mi dici che le hai già ascoltate tutte, anche se so che molti di voi lo hanno fatto e vi ringrazio. E ti invito a continuare a seguirmi attraverso questi social, te li ripeto, le Facebook Live e Snapchat. Bene, quindi come al solito bando alle ciance e proviamo a stilare dei consigli tratti da questi studi affascinanti sulla postura, l'utilizzo del cellulare è la nostra assertività. Primo, diventa consapevole delle tue posture, senza impazzire. Mentre usi i tuoi device, i tuoi apparecchi, diventa consapevole della postura che stai assumendo. Non ti sto chiedendo di diventare un ossessivo della postura, ma semplicemente di osservare come usi il tuo corpo mentre stai usufruendo della tecnologia. Magari mentre sei lì che usi il tuo cellulare, ogni tanto prova a sentire la posizione della tua schiena, del tuo collo e magari prova a raddrizzarti un pochettino. Secondo, fallo soprattutto prima di un evento importante. Prima di un colloquio di lavoro, prima della presentazione del tuo progetto o anche prima di un esame, evita di restare ricurvo sul tuo cellulare. Lo stesso vale per degli appunti, ok? Se sei lì a riguardare i tuoi appunti sappi che, secondo me, è la stessa identica cosa. La caddy consiglia di restare in piedi e di camminare. E se hai la possibilità, assumi una power position per un paio di minuti. Magari ti farò un piccolo riassunto nel quaderno degli esercizi con le power position della caddy, ma ti basta andare su ted.com, scrivere emicuddy, emi con la y finale e cuddy con la y finale e ti arriveranno due, se non sbaglio, due o tre speech dove troverai la cuddy che ti parla, la caddy, che ti parla appunto di queste power position. Ah, tra l'altro ne abbiamo parlato anche qui su psine, la puoi trovare. Terzo, se vuoi convincere qualcuno ad usare meno il cellulare, raccontagli questo studio. Sembra una banalità, ma penso possa essere un buon deterrente per spiegare, soprattutto ai più giovani, che non corrono solo il rischio di diventare gobbi in teneretà, ma rischiano anche di perdere potere personale, assertività. E visto che questa è la società della vergogna, è la società dove le persone non si sentono all'altezza, non si sentono abbastanza, non si sentono abbastanza forti, raccontarli che usare il cellulare in modo diverso, stando più attenti alle proprie posture, può aumentare la loro capacità di affrontare le situazioni e di sentirsi all'altezza. Quindi, concludendo, chissà se anche chi legge ha degli effetti simili, molto probabilmente sì, perché se immagino una persona ricurva su un libro, la immagino proprio in quella posizione lì. E io stesso, che ho studiato per tanti anni, tenere la testa ricurva su un libro piccolo o su un libro anche di medie dimensioni, è la stessa identica cosa che tenerla ricurva su un cellulare. La differenza è che su un libro lo fai per un tot di tempo programmato, mentre col cellulare, avendocelo sempre in tasca, lo tiri fuori e quindi diciamo che diventa sempre più frequente. Bene ragazzi, siamo nel cuore dell'estate, per cui questa puntata sarà particolarmente breve. Cercherò di tagliarla il più possibile in modo da restare entro i nostri classici 20 minuti. Come sempre, ti ricordo che se vuoi contribuire a far crescere il progetto di Psynel, ti basta andare su iTunes, mettere la tua piccola review a 5 stelle, votare il podcast. Se vuoi continuare a seguirmi, te lo ripeto, Facebook Live, cercami su Gennaro Romagnoli e la mia fanpage, oppure e anche trovami su Snapchat per vedere le mie storie dal vivo, che sono quasi quotidiane, e in più, se vuoi scaricare il quaderno degli esercizi, iscriviti alla mailing list di Psynel. Ed infine, un ultimo piccolo marchettone, è quello che vede il master in meditazione avanzata. Come probabilmente saprai, abbiamo aperto le porte solo per 30 persone e nel giro di 24 ore il master si è completamente riempito. Stiamo già iniziando a raccogliere le prime testimonianze incredibili di tutte le persone che stanno postando il loro punto di vista all'interno del nostro gruppo segreto del master in meditazione, che è uno dei tanti bonus di questo master. Oltre al fatto di avere la mia presenza costante e poter farmi tutte le domande che vuoi, e alla fine faccio anche dei piccoli video. Ebbene, all'interno di questo post, spero di ricordarmelo, inserirò finalmente il link per poterti iscrivere nella waiting list, cioè nella lista di attesa per il corso che riaprirà ad ottobre. Ti avviso, sarà solo per poche persone, penso non più di 50, e sappi che abbiamo già quasi 50 persone nella lista d'attesa. Tranquillo, non sarà per ordine di arrivo, ma sarà per chi il più veloce. Insomma, noi apriremo nuovamente le porte ad ottobre e il primo che ci farà il bonifico entrerà, semplicemente in questo modo qua. Per cui, se vuoi essere tra questi fortunati, vatti a spulciare il post e forse anche il quaderno degli esercizi all'interno dei quali inserirò il link della seconda apertura del master in meditazione avanzata. Bene ragazzi, siamo giunti al termine della 133esima puntata. Come sempre, vi invito a farmi tutte le domande del caso all'interno dei commenti del post. Ti auguro una splendida giornata, ci sentiamo probabilmente fra un paio di settimane. Un saluto da Gennaro Romagnoli di psicologia neurolinguistica.net.